La Puglia ancora una volta protagonista agli europei di nuoto al Foro Italico di Roma. 8 gli atleti del Tacco d'Italia in gara per la manifestazione sportiva che si disputerà fino al 17 agosto. 5 le discipline su cui si confronteranno atleti provenienti da tutta Europa. Ieri la prima medaglia d'argento con il 21enne barese Marco De Tuglio nella staffetta 4x200 stile libero. Nella giornata finale poi sarà impegnato nella gara dei 400 stile libero e alla competizione europea parteciperà anche suo fratello Luca con gli 800 e 1500. Gareggia nei 100 farfalla la biscegliese Elena Di Liddo, da Bari nella Rana anche Andrea Castello. Con loro anche Federica Toma di Sava, Chiara Tarantino 19enne riccese e per la prima volta Simone Stefani, il 22enne Salentino di Castignano dei Greci. Favorita nei 100 rana Benedetta Pilato, già campionessa del mondo a Budapest. La 17enne Tarantina, reginetta del nuoto italiano, ha infatti tutte le carte in regola per diventare l'erede della divina. Federica Pellegrini, scelta come madrina di questa 36esima edizione dei campionati europei delle discipline acquatiche. Insieme a lei gli ambassadori Massimiliano Rosolino, Tania Cagnotto e Filippo Magnini, tutti campioni che, come ha dichiarato Feder Nuoto, hanno segnato la storia del nuoto azzurro in vasca e dal trampolino.